buongiorno lei è venuto qui per portare il suo piccolo grande aiuto piccolissimo una goccia di acqua in un mare di guerra che cosa la spinta a venire qui ho perso nei tempi ho già degli anni io nel tempo io ho perso un nonno in un campo di concentramento e questo me lo porto sempre dentro ma la storia non ci ha insegnato nulla evidentemente la storia non ci ha insegnato nulla perché l'uomo è assettato di potere una catena di solidarietà solida da parte dei cittadini abruzzesi pacchi e genere di prima necessità occupano i locali del piano terra del consiglio regionale a pescara volontari italiani con i cittadini ucraini che vivono qui continuano il via vai con le donazioni accanto alla solidarietà degli italiani ci sono però anche i russi che si recano nei locali per manifestare la propria solidarietà intanto proseguono le testimonianze dei cittadini dell'ucraina che hanno i familiari nel paese dell'est sono soprattutto le donne ucraine a raccontare di vittime bombe civili uccisi persino neonati la sede del consiglio regionale è stata richiesta dal movimento 5 stelle messa a disposizione grazie al presidente del consiglio regionale sospiri maria da quanto tempo vivi a pescara io a pescara vivo da 18 anni più di 18 anni ormai quasi 19 c'è stata risposta da parte della cittadinanza da parte dei cittadini c'è stata solidarietà tanta devo dire tanta non ci aspettavamo sinceramente perché quando abbiamo messo anche annuncio su facebook abbiamo abbiamo letto commenti di tutto e di più nei commenti però il giorno dopo quando siamo arrivati qua alle nuove già c'era gente aspettarci quindi comunque solidarietà c'è ci portano tante cose noi da soli con le nostre forze non avremmo potuto organizzare e fare e raccogliere così tanta roba raissa tu vivi a pescara chi hai lasciato in ucraina ucraina c'è marito c'è mia sorella c'è mia figlia loro rimasto miei nipoti tutti rimasti in ucraina fa combattere combattere contro questo pazzo tu maria elena hai risposto all'annuncio portando un gesto di solidarietà ed anche una donazione certo adesso qui c'è bisogno di tappetini e di sacchi a pelo quindi facciamo un appello se qualcuno ce li può procurare perché così prepariamo gli scatoloni li spediamo subito perché i nostri amici d'ucraina hanno bisogno di noi irina tanti profughi stanno arrivando qui in abruzzo e anche tante persone che si stanno ricongiugendo ai familiari che vivono qui ti chiedo qual è la situazione attuale in ucraina oggi allora situazione è drammatica perché tanta gente ha perso familiari ha perso la casa quindi stanno arrivando conosco anche tante persone che adesso sono ripartiti in ucraina per salvare i genitori i figli fratelli parenti sì oggi è venuta una signora russa di mosca l'ha portato medicinale e anche vuole venire qua fare il volontariato poi ho ricevuto anche tanti messaggi dai miei amici russi ed olga in italia da 20 anni si fa promotrice delle donne ucraine contro putin ma chi è sto uomo quelli capaci b che lui sta la farà guerra con uomini e con con bambini con donne che più deboli di di lui come avete visto forse anche voi che con mani nudi vanno contro carri armati è vero che anche le donne combattono anche le donne quindi more ieri hanno detto che putin era ha trovato i nostri uomini che difendono la terra che conosce come sanno difendere ma lui ancora non conosce noi donne ucraine